Non abbiamo partecipato perché quando abbiamo visto il capitolato, le condizioni che c'erano su ed erano delle condizioni che c'erano, capestro per noi, l'impianto era prioritariamente destinato al lancio e all'attività del calcio femminile, prioritariamente, con 10 ore alla settimana di allenamento per la prima stagione e 20 per la seconda, in orari e giorni richiesti dalle fruitrici, quindi noi non avremmo avuto praticamente alcuna possibilità di usufruire di un impianto sul quale avevamo preventivato 200.000 euro di investimenti, quindi abbiamo deciso che forse c'era qualcuno che aveva deciso che avrebbe dovuto essere del calcio femminile e non abbiamo niente contro il calcio femminile, anzi abbiamo un buon dialogo con loro, abbiamo deciso di non partecipare. L'assessorato allo sport, col quale abbiamo avuto un anno di dialoghi continui sul discorso del parco della gioventù, avevamo presentato progetti e tutto e poi ci siamo ritrovati queste condizioni così e in effetti non c'è stato l'appoggio che avrebbe dovuto esserci, anzi sono stati degli ostacoli, quindi pensiamo che sia più giusto di fare la nostra casa qui a Madoneo dell'Uolmo e di allargare questa struttura che abbiamo in gestione fino al 2031. Ecco appunto, adesso il piano B appunto è investire, per fare i lavori qua cosa si farà a questo in posizione? Ma noi pensavamo di fare un centro polisportivo se prendevamo il parco della gioventù, abbiamo necessità di avere un campo in sintetico, anche non per le gare ma soprattutto per gli allenamenti, per essere indipendenti nel periodo invernale ed è quello che faremo, cercheremo i finanziamenti, faremo col credito sportivo, non so cosa, comunque dobbiamo fare un campo in sintetico.